La storia continua, la storia continua. Allora, nel video relativo al libro del professor Farquelli io parlavo della conclamata e acclarata omosessualità di Mishima. Ma sentiamo cosa ci dice il signor Gattopardo allora. Mishima in effetti aveva tendenze omosessuali, ma la sua omosessualità era vissuta intimamente. Nulla a che fare con l'estremismo omosessualista delle sinistre e questo per tanti motivi che chi conosce l'opera e il pensiero di Mishima seriamente sa. Boh beh, che vedevo di. Mishima l'ho letto sinceramente, i suoi romanzi mi sono anche piaciuti. Ha scritto delle opere meravigliose Mishima. Mishima era un genio, io sono il primo a dirlo. Politicamente non avrei percorso insieme a lui nemmeno il percorso da casa mia al bar. Ma Mishima oggettivamente era un genio. Io sono il primo a dirlo. Ma continuiamo a sentire quello che dice il signor Gattopardo. Su Brasillac quali prove si hanno? I suoi carteggi forse? E come si fa a dire ciò? Continua il signor Gattopardo. Su Selin, idem. Vabbè. Sull'esperienza fiumana si sa che fu un coacervo di contraddizioni in cui ad aspetti certamente di destra, ad esempio nazionalismo e antiparlamentarismo, si sommavano aspetti tipicamente di sinistra, uso di droghe, amore libero, eccetera. Infatti, non per gli aspetti di sinistra il fascismo guardò ai fiumani, ma per la critica all'italietta liberale. Su Röhm c'è comunque che non era un effemminato. C'è da dire che quando fu ucciso, Himmler e Hitler stigmatizzarono come perversa e immorale la sua omosessualità e quella dei suoi accoliti. Poi è ben nota la guerra che il nazismo intraprese contro tutte quelle forze politiche, sociali, eccetera, che propagandavano ogni genere di decadenza, tra cui l'omosessualità. Vabbè. E comunque, come si fa ad accomunare omosessualità e nazismo quando gli omosessuali finivano nei campi di concentramento col triangolo rosa? E adesso tenetevi forte. L'iconografia cripto-gay delle SS è una invenzione di individui pervertiti che hanno voluto vedere l'omosessualità là dove non ce n'era per niente. Ne è sicuro, 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 signor Gattopardo? Lei ha guardato un attimo le immagini dei manifesti di reclutamento delle SS? Ha guardato l'iconografia stessa delle SS? Ha guardato certi, diciamo, va bene, si parla di propaganda. Ma lo sapete? Avete presente il famoso gruppo di, il collettivo di artisti satirici, di vignettisti satirici sovietico, Kokirnishki? Erano tre geni, erano dei geni, erano. Fecero dei bellissimi manifesti in cui le SS venivano rappresentate con le loro belle divise, eleganti, fine, finissime, tutte cose così, con tanto di rossetto, ombretto, unghie smaltate, a fare dai andiamo a conquistare la Russia praticamente. Perché questo pensavano i comunisti delle SS. E soprattutto, e soprattutto, e soprattutto, i Bolsheviki, soprattutto l'Unione Sovietica, sosteneva che l'omosessualità fosse una cosa collegata strettissimamente alla destra estrema. E certe cose, e certe cose, non fanno altro che, come dire, rafforzare quest'idea. I GESH, i gay Aryan skinheads, non li ho certo inventati io. La disinformazione? Gli infiltrati dei poteri forti. Il partito nazista dei gay Aryani russi. Me lo sono inventato io? Eh? Sapete che c'è il partito nazista gay Aryano in Russia, che ha come simbolo una svastica con due cazzi dritti, con due cazzi in elezioni incrociati, circondati da una corona dall'oro. E sono filo Putin. E sono filo Putin. Trovate le loro interviste su internet. Cercate Partito Nazista dei gay Aryani russi. E ci sarà molto da ridere leggendo quelle interviste. Ma secondo il signor Gattopardo sono infiltrati. Allora, il discorso è semplicemente questo qui. Qua l'unica cosa che c'è di infiltrato l'unica cosa che c'è di infiltrato è il, come dire, è il cervello di sto signore. Perché veramente ce ne vuole di coraggio a proporre certe cose. Allora, il discorso è semplicemente questo, cari signori. Collegare la droga alla sinistra è un trucchetto che non funziona. Perché nel regime fascista si drogavano come dei cucù. Ve lo ricordate Osvaldo Valenti? Osvaldo Valenti, che de sinistra proprio non era. fucilato, va bene, fucilato dalla banda Marozzin dopo la guerra perché Valenti aveva partecipato all'arresto e all'esecuzione del fratello di Marozzin. Valenti si drogava come una bestia, si drogava. Valenti era uno dei più noti e famosi cocainomani. Le carte della segreteria personale di Mussolini sono piene di informative dell'ovra sui festini a base di sesso, orge e cocaina. Eh, 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 eh. I rapporti sulla presunta omosessualità di Starace e di Giulietti e di Turati. Anche, ci sono anche quelle. Eh, eh, cani miei. Non me lo invento certo io. Queste cose qua. Cioè, il signor Gattopardo con questa sfilza di luoghi comuni continua ancora dicendo che Sumishima precisa meglio egli non aveva tendenze omosessuali ma forse bisessuali essendo sposato ed avendo una normale relazione con la moglie. matrimonio di copertura? No? Questo non le viene in mente? Potrei anche citare Takeda Shingen uno dei più grandi uno dei più grandi condottieri uno dei più grandi condottieri del Giappone medievale. Takeda Shingen era monaco buddista e soprattutto aveva un harem ma il suo uomo di fiducia era il suo amante. Eh, signori, e non se ne vergognava minimamente Takeda Shingen. Ma questo è un altro discorso, signori. Allora, dico forse perché non si sa con certezza se avesse mai avuto concretamente relazione con qualche uomo molto probabilmente no. Oibo, ma si ipotizza che potesse essere attratto anche dagli uomini o quantomeno da un suo amico dal fatto che nella sua opera Confessioni di una maschera forse autobiografica egli parla del personaggio che pur avendo relazioni con donne al tempo stesso è intimamente e segretamente attratto dal proprio amico. Il personaggio, forse Mishima stesso, reprime questo sentimento perché lo considera innaturale e cosa di cui avere vergogna perché sminuisce la propria dignità di uomo. Dunque, il dire che Mishima era omosessuale non è corretto ed è una squallida forzatura al pari delle altre. Vabbè, egli forse fu bisessuale e comunque il suo probabile e quindi non certo l'atomo sessuale fu vissuto molto probabilmente solo platonicamente e considerandolo una cosa sminuente per la propria dignità di uomo. Forse perché l'ipocrisia regna sovrana. se un uomo accettasse di essere se stesso non vivrebbe meglio, non vivrebbe più felice. No, no, non accettano se stessi gli omosessuali, insomma, gli omosessuali di destra o gli estremisti di destra non accettano se stessi e impongono agli altri la loro infelicità perché hanno bisogno di un mondo vile, lurido e meschino come loro. È ipocrita! gli estremisti si assomigliano a tutti sia di là che di qua e ne posso fare a tonnellate di esempi sia di là che di qua. Diceva Pietrangelo Buttafuoco ricordiamoci sempre che se a sinistra sono pieni di cretini a destra siamo circondati da imbecilli e oserei dire che qui ne abbiamo un clamoroso esempio. Allora dicevo e comunque il suo probabile e quindi non certo l'atomo sessuale fu vissuto molto probabilmente solo platonicamente c'è tutta una serie di ipotesi cioè neanche lui cioè se io non so delle tendenze sessuali di Mishima anche il signor Gattopardo o la signora Gattopardo perché io c'ho un certo sospettino su chi possa essere l'autore o l'autrice di questa pappardella ma insomma diciamo così non lo sa neanche lui cioè mi accusa di dire menzogne accusando ma accusandomi di dire menzogne fa ipotesi che non può provare neanche lui vabbè 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 ecco dicevo ecco spiegato il perché Mishima ecco spiegato il perché Mishima non aveva nulla a che fare con l'estremismo omosessualista delle sinistre e dei liberal chic ammesso che abbia avuto un lato omosessuale comunque segreto e intimo e molto probabilmente non praticato nel caso ce lo avesse avuto egli di certo lo considerava sminuente e quindi nocivo e questo valeva per la sua interiorità figuriamoci per la società ecco anche spiegato perché stava a destra e non a sinistra se avesse avuto un'idea opposta dell'omosessualità non credete che sarebbe andato a sinistra? meditate gente meditate e lasciate perdere i volgari disinformatori e poi fa un annuncio in cui dice attenzione questo video è stato fatto da volgari disinformatori di sinistra non cadete nel tranello di questi falsi e pezzi di cacca e qui oserei dire che la firma la firma la firma è più che chiara perché siamo di fronte a personaggi che provengono da un ambiente che da quando ho aperto questo canone insomma da un canale tra virgolette concorrente che mi sono fatto degli arci nemici cioè allora quello che ho dovuto vi spiego una cosa ho dovuto per motivi tecnici ho dovuto dividere in due parti questo video spero che me ne scuserete e spero che come dire vi rendiate conto dei ragionamenti tortuosi contorti della spaventosa ipocrisia della persona che scrive queste cose allora il discorso è questo qua io non sono gay uno due non me ne interessa minimamente non ho l'onore di essere gay come ho già detto prima se questo signore sperava di rimorchiarmi ha completamente sbagliato perché come dire sono etero non me ne vergogno sono felicemente fidanzato sono felicissimamente innamorato e e sto benissimo in tutti i sensi ok questa persona ha dei grossi problemi cioè questo suo allora io l'ho sempre detto gli estremisti non mi sono mai piaciuti parlando sinceramente gli estremisti sia di là sia di destra che di sinistra non mi sono mai 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 piaciuti perché perché li considero tendenzialmente degli ipocriti degli ignoranti dei poveracci dei miserabili che hanno bisogno che hanno bisogno di vivere in un mondo miserabile e ipocrita quanto loro e ripeto e sottolineo tutti gli estremisti chiaro? e questa cosa la sinistra omosessuale eccetera 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 di andare a letto con Pasquale a me non me ne frega niente ok? se Maria invece di andare a letto con Mario va a letto con Giuseppina a me non me ne può fregare de meno un'altra volta perché? perché? se si tratta di persone maggiorenni e consenzienti che vogliono essere felici facciano pure a me non me ne può fregare de meno e così dovrebbe essere per tutti no 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 si sminuisce si dà la decadenza dei valori quali valori? signor Gattopardo quali valori? quali valori? mi dica signor Gattopardo quali valori? tra l'altro il signor Gattopardo ha anche cancellato credo che abbia cancellato anche un paio di commenti relativi al fatto io nel video di recensione a omosessuali di destra di fra quelli citavo gli episodi di criminali come i marsigliesi di Bergamelli e la banda di Francis Turatello che furono quelli che portarono in Italia le droghe pesanti e che si vantavano apertamente di essere nazisti tant'è che Turatello portava una patacca d'oro una svastica d'oro da duetti al collo e il signor Gattopardo ha detto anche oh perché non si può dire che è nazista uno che porta uno che porta una svastica al collo basta questo a definirlo nazista non aveva certo una falce martello d'oro al collo non aveva certo una stella rossa tempestata di diamanti al collo Turatello Turatello era fascista era nazista anzi e se ne vantava apertamente Bergamelli uno dei più grandi uno dei più importanti dei più feroci criminali degli anni 70 era era un nazista dichiarato non me lo sono certo inventato io basta leggersi le cronache dell'epoca basta leggersi la sua biografia tutto qui che che soprattutto a destra io non voglio infiedere però siamo sinceri quanto è ipocrita gente che tuona contro la decadenza di valori occidentali per cosa per poi cosa per poi dopo scoprire che va a trans e pippa cocaina cioè Marrazzo io dissi nel video che Marrazzo non aveva inventato nulla ma molti si dimenticano una cosa cari signori qualche tempo dopo il fattaccio il famoso ricatto dei trans a Pietro Marrazzo con la cocaina eccetera eccetera ci fu un altro caso passato un pochino più sotto silenzio perché il personaggio coinvolto era decisamente meno mediatico si trattava di un consigliere regionale del Lazio tale Zaccai questo signor Zaccai aveva un curso sonoro assolutamente cristallino dal fronte della gioventù al movimento sociale passando per forza Italia cosa successe? successe che lo pescarono poche settimane con la destra la decadenza della sinistra marrazzo comunista culattone eccetera eccetera qualche settimana dopo questo esponente di destra ex fuan ex ex fronte ex fronte della gioventù ex fuan ex missino forza Italia tutto dio onore patria famiglia morte ai froci pescato pieno di cocaina fino agli occhi con tre trans insomma cari signori non è certo una novità gli infiltrati della sinistra per demolire la destra allora non ci sono infiltrati non ci sono infiltrati di sorta i gay sono dovunque i gay sono persone uguali agli altri tali e quali signor gattopardo nel corso cioè la la storia allora io ho citato allora io dico sempre una cosa prendete fatevi un giretto su su internet su google cercate i manifesti i manifesti di per l'arruolamento dell'SS una certa iconografia una certa cioè siamo sinceri certe immagini sembrano tratte dal port dal port dal port dal portfoglio dei disegni di tomo finland cioè ragazzi cioè insomma siamo sinceri io lo dico sempre io lo dico sempre quando si vuole cioè se uno è gay ed è di destra faccia pure ma dopo come dire non si lamenti cioè questo signore che mi ha insultato così a questa maniera che ne ha detto di tutti i colori la gay di sinistra favorevole le droga bla 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 eccetera 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 ci dico soltanto io dico soltanto una cosa io potrei fare tanti 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 esempi e ce li ho praticamente sotto casa mia di estremisti di destra pieni di svastiche crociceltiche tatuate addosso che sono finiti in galera per spaccio di droga o peggio ancora o peggio ancora o peggio ancora di estremisti che giocano alla cavallina cioè di di estremisti di destra che giocano alla cavallina storna fra di loro cioè ci sono cioè ci sono sono qui nella zona del pesarese ci sono stati dei fatti di cronaca clamorosi che hanno coinvolto estremisti di destra con il traffico di droga e con certe cosucce molto allegre a livello rettale detta così com'è la morte di Heider cioè un mio caro amico vive in Austria da quasi 40 anni ok mi ha raccontato cioè come dire la storia di Heider la sapevano tutti che Heider era gay e quando si è ammazzato in quell'incidente stradale era pieno di sperma altrui nel retto e di cocaina nel naso la droga tutti si drogano tutti si drogano tutti di destra e di sinistra questa storia che la sinistra è favorevole alla droga è favorevole all'amore libero è favorevole ai gay è squallida è triste è stancante perché in realtà quando uno gratta sotto la vernice si scopre che a Roma certi caporioni di movimenti di estrema destra spacciano a mansalva e sono agli arresti domiciliari perché ci avevano letto di cocaina nascosto sotto il sellino dello scooter qui nel pesarese qui nel pesarese ogni tanto ne arrestano ogni tanto arrestano qualche arrestano qualche nazischi perché per spaccio per conto degli albanesi poi quindi io non dico una cosa io non dico che tutti io non ho mai detto che tutta la gente di destra è ipocrita sono ipocriti sono ipocriti certi estremisti l'ipocrisia è ovunque a destra e a sinistra lo ripeto la geniale battuta di oddio scusate non mi ricordo se era di buttafuoco o di veneziani quella che diceva a sinistra ci sono tanti cretini a destra ci sono tanti imbecilli non è una novità non è una novità il signor Gattopardo con questo suo video così insomma con questi suoi commenti al video è qualcosa di spettacolare cioè io non credevo fosse possibile veramente io sono onorato dall'essere un disinformatore e sottolineo disinformatore e questa parola mi ricorda tanto qualcuno UGO senza H ve la ricordate? questo mi ricorda ma non ho le prove perché il profilo del signor o signora Gattopardo è ovviamente anonimo privo di contenuti senza una foto che lo identifichi allora io sono un disinformatore caro signor Gattopardo ma almeno questa brutta faccia da cazzo la metto ce la metto ci metto la mia faccia eh esponendo le mie opinioni esponendo quello che so esponendo quello che ho imparato esponendo quello che ho letto e almeno le cose di cui parlo i libri di cui parlo io li ho letti tutti lei signor Gattopardo non solo non li vuol leggere non solo non li ha letti non li vuole leggere ma allo stesso tempo ne vuole parlare e allora chi è ipocrita io o lei signor Gattopardo signor Gattopardo io la ringrazio tanto per avermi dato il destro per fare questo video la ringrazio tantissimo per 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 la perla che mi ha regalato e le auguro veramente una lunga 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 vita nel mondo che lei vuole e mi creda castigo peggiore non gli posso augurare un bacio caro mio signori io vi ringrazio tantissimo scusate per questa scusate la lunghezza del video ho dovuto dividerlo in due parti di nuovo per motivi tecnici quindi io come dire vi ringrazio tantissimo per l'attenzione trovate il link al video relativo al libro del professor Fraquelli libro che vi raccomando caldamente di leggere fatemi sapere che cosa ne pensate e arrivederci di nuovo al mio prossimo video ciao